Francesco Pitalà, il vincitore del primo Moscato di Scanzo Cocktail Contest, raccontaci un po' con quale cocktail hai vinto. Il cocktail che ho portato per questa edizione, la prima, è stato un piacere infatti partecipare, è un twist su wine cooler, quindi stiamo parlando di un drink molto semplice, in questo caso base Moscato, Moscato di Scanzo, con del ginger ale, un pochettino di zucchero e della frutta fresca. Diciamo potrebbe essere quasi una sangria nostrana. Perfetto, e tra l'altro tu lavori a Londra, quindi lavori all'estero, potrebbe essere un'occasione per portare un prodotto tipico, come quello particolarmente tipico, come il Moscato di Scanzo, all'estero e magari far conoscere un'esclusiva italiana? Quello sì, abbiamo tanti prodotti a Londra italiani, ma appunto ad esempio Moscato, Passito, non sono diciamo all'ordine del giorno, quindi è anche un modo per valorizzare i nostri prodotti, quelli che magari noi tendiamo ad utilizzare più in modo quasi giornaliero, ovvero magari dopo pasto, però anche nel mondo del bartending possiamo anche valorizzarlo, appunto con un contesto come quello di oggi dell'OEPV, quindi basso tasso alcolico. Bere anche in modo responsabile.